Musica Cari telespettatori, rieccoci insieme con noi la vicepresidente del Lancia del Veneto, Elisa Venturini, ben ritornata. Grazie, grazie mille per l'invito. Per cercare sempre di commentare, di chiarire tanti aspetti del quotidiano, delle novità che via via si sviluppano costantemente. E quante novità? E quante novità, non c'è da stare tranquilli un attimo, dovrebbe essere un'estate abbastanza tranquilla, però sarà un'estate anche di campagna elettorale comunque. E sarà un'estate calda Elena, perché poi con la ripresa che ci sarà a settembre su più fronti ci dobbiamo preparare, dobbiamo essere pronti. Sto pensando scuola, trasporti, lavoro e quindi gli amministratori locali sono sul pezzo. Esatto. Allora, prima cosa sul pezzo, da cui abbiamo ricevuto diverse mail, abbiamo parlato anche con un'associazione di categoria, è stato il commento che tanti hanno fatto queste norme restrittive alla vicenda della ripresa un po' dei contagi, sempre con numeri molto ridotti, però è stato scalpore a livello nazionale, intanto. Perché noi ci facevamo forti anche con l'estero, di questa zona covid free, quasi insomma come emblema. E invece è bastato questo caso, poi il fatto che ci sia stata questa signora che veniva dall'estero, la badante, eccetera, che ha rimasto tutte le acque e tanti operatori del settore turistico hanno detto che hanno avuto delle disdette, purtroppo. Chi era traballante e disdetto, soprattutto dai paesi tedeschi, germani, eccetera, ma anche dalla Francia, ha fatto notizia a grandi titoli nei quotidiani esteri e poi ha messo in forza alcuni rapporti anche di altro genere. È mai possibile questo? Come la vede? Diciamo che questa vicenda di questo imprenditore vicentino non ha fatto bene. Non ha fatto bene perché ha contribuito a dare un'immagine di una regione, di un paese che può essere di nuovo oggetto o area di focolai. E quindi ha fatto bene però il Presidente Zaia di intervenire soprattutto per dare un messaggio. Perché vuoi anche per questa diatriba che è in atto tra virologi, perché se noi andiamo a leggere il giornale vediamo anche in televisione c'è questo battibecco che certo non trasmette sicurezza ai cittadini, che ad un certo punto magari si possono anche sentire autorizzati di avere magari anche una condotta con meno attenzioni. Fai da te, uno dice una cosa, un po' l'altra, mi adatto. Sì, per cui alla fine se noi pensiamo ai mesi che abbiamo vissuto in confinamento, quindi marzo, aprile, maggio, dove eravamo veramente sottoposti costantemente ad un messaggio che ci voleva comunque molto attenti, adesso forse si è un po' allentata l'attenzione che noi avevamo, anche la paura forse, quindi induce ad avere magari meno precauzioni, meno cautele. Il fatto che il Presidente sia intervenuto per far presente che certe condotte non sono ammesse, forse in questa fase ci sta. Ci sta, è stata fatta un'ordinanza che al di là di come è stata presentata ad alcuni, non ha niente di repressivo, cioè non c'è niente di sconvolgente. Semplicemente sono stati indicati alcune fattispecie dove devono essere adottate alcune precauzioni. Ad esempio, ci sono alcuni casi, ad esempio, se la persona presenta una determinata sintomatologia, ad esempio un'infezione delle vie respiratorie o la temperatura superiore ai 37,5, è chiaro che deve stare in casa e c'è l'isolamento, in questo caso fiduciario, la persona chiama il medico, ma va da sé se ci sono i sintomi. Oppure la persona che rientra o che fa l'ingresso in Veneto dai paesi extra Unione Europea, extra Schengen, per i quali magari ci sono anche delle condizioni che non sono particolarmente sicure, allora in quel caso la persona si sottopone anche in quel caso all'isolamento fiduciario. Oppure ancora, quando si entra a contatto, contatti a rischio con persone che risultano positive a seguito di un tampone, allora in quel caso c'è l'isolamento. Ci sono determinate fattispecie ben chiare dove è previsto l'isolamento. Poi c'è anche il caso del tampone che è previsto per chi rientra, per chi oppure fa l'ingresso anche in Veneto, e proviene appunto da uno dei paesi sempre extra UE o extra Schengen. In questo caso il tampone è previsto nel caso in cui la persona si è spostata per motivi lavorativi. Allora, devono essere fatti due tamponi, un primo tampone dopo 5-7 giorni deve essere fatto il secondo tampone. Se il primo tampone risulta negativo, la persona può andare a lavoro temporaneamente, con mascherina, prendendo tutte le precauzioni del caso. Poi se il secondo tampone è anche negativo, può riprendere tranquillamente l'attività lavorativa. L'obbligo del datore di lavoro cos'è? Semplicemente quella di comunicare, nel caso appunto del lavoratore che rientra, la presenza di questo lavoratore e il fatto che debba sottoporsi al tampone. Quindi io non vedo niente di così repressivo. Semplicemente sono delle misure di precauzione, anche mi verrebbe da dire di buonsenso, da adottare proprio per tutelarci. Perché abbiamo visto che i casi più frequenti di Focolai vengono generati proprio da persone che provengono dall'estero. Quindi proprio delle precauzioni minime. Da un punto di vista repressivo si parlava addirittura di TSO. Che sarebbe trattamento sanitario obbligatorio. Che sono i sindaci di solito, anzi sono i sindaci che possono. Sì, allora è il sindaco che sottoscrive diciamo l'atto. Ma è l'autorità giudiziaria. E a dire vero è l'intervento da parte dei medici. Cioè il medico che ravvisa la sussistenza di tutti quegli elementi da un punto di vista diagnostico che inducono poi il sindaco ad adottare il provvedimento perché la persona per problemi psichiatrici deve essere sottoposta ad un trattamento, deve essere appunto un trattamento terapeutico e non vuole sottoporsi. Allora in quel caso con la forza si interviene a tutela della persona. In questa ordinanza non è previsto alcun trattamento sanitario obbligatorio. Semplicemente l'Ulss nel caso in cui, o le strutture sanitarie, nel caso in cui le persone che devono essere sottoposte ad un ricovero, nel caso in cui siano positive e non vogliono essere sottoposti a questo, fanno la segnalazione in procura. Quindi semplicemente si ricorre all'autorità giudiziaria. Ma va da sé, si mette a repentaglio veramente la salute pubblica. Quindi è il minimo il fatto di intervenire in questo senso. La paura da parte di molti è che il tampone, per esperienze che sono molte persone, richiede un tempo. Nel frattempo la persona comunque non ha più questa libertà di contatto, di movimento. E poi c'è il risultato. E tutto questo fatto di essere privati del proprio libertà, ma anche di lavorare effettivamente, per cui va a pregiudicare rapporti interessi. Noi appunto avevo presentata la questione anche al responsabile di una categoria abbastanza estesa di imprenditori, alla luce di una mail che era arrivata, dicendo sono un piccolo imprenditore, devo approfittare del periodo adesso di spostarmi il più possibile per rilacciare rapporti commerciali importanti per la mia attività, ma può essere che in una settimana vado anche in tre paesi diversi, che possono essere anche paesi considerati a rischio. Ma come posso sottostare a questa serie di norme compatibilmente col mio lavoro, che richiede poi altri contatti, altri rapporti, non solo qua in Veneto, ma anche magari in altre parti d'Italia, in Lombardia e quant'altro. Cioè effettivamente faceva capire una persona che è orientata a svolgere un'attività con un risultato e che a prescindere dal pericolo non riesce a stare dietro a tutto questo. E l'altra cosa, come funzionano le procedure? Perché dicevo, la rapidità, uno dice non è che io vado lì, dove vado a farmi questo tampone? Chi me lo... Cioè la paura dei tempi, perché sappiamo come funziona. Sì, allora, premesso che è comprensibile e tutti quanti abbiamo paura e tutti in qualche maniera vorremmo evitare di perdere tempo, perché noi siamo abituati a vivere liberi. Noi stiamo sperimentando una situazione mai vissuta prima, dove siamo sottoposti a delle regole particolarmente rigide che sono dettate dalla necessità di garantire la salute pubblica. Ora, una pubblica amministrazione deve porre comunque le persone in una condizione per cui non debbano sentirsi vessati. Cioè devono osservare delle regole per la tutela della salute propria e pubblica, ma nello stesso tempo devono essere il meno stringenti possibili. Allora, in questo caso, se viene prevista questo obbligo di fare il tampone, sono due tamponi che vengono previsti. C'è la segnalazione che era fatta l'ULS. L'ULS si muove, in questo caso, in base dei protocolli che ormai sono definiti. Cioè se fossimo alla volta di febbraio o marzo, dove magari tutto era da coordinare, magari ci potevano essere tanti momenti dove c'erano delle insicurezze, ma adesso i protocolli sono ben definiti. Quindi una volta che viene fatta la segnalazione, un primo tampone viene fatto. L'esito è nel giro di massimo due giorni, se non ho capito male, quindi in realtà anche in maniera abbastanza rapida. Se il tampone è negativo, la persona può andare al lavoro mantenendo la mascherina e adottando tutte le precauzioni del caso dell'ambiente lavorativo. Poi se il secondo tampone è negativo potrà riprendere. Se invece si saranno dei problemi, è chiaro che nel frattempo sono state adottate comunque delle precauzioni per la persona. Quindi io dico, è un sacrificio che deve essere fatto in questa fase. Soprattutto, ripeto, se ci sono le condizioni, cioè chi proviene da paesi dove effettivamente ci sono dei focolai, vediamo che è un attimo far ripartire anche nel nostro territorio. Poi vediamo lo stesso imprenditore del Vicentino. Adesso è... Ma lì è stato un comportamento, cioè ragazzi, lui ha avuto la sintomatologia, il tampone che segnalava che era positivo, ed è andato a un funerale, a una festa e poi che so io. Quindi in questo caso ha avuto anche tutta una serie di contatti. E però quello che voglio sottolineare è che è lo stesso imprenditore che in realtà risente delle conseguenze negative. Nel senso che lui adesso, proprio perché non ha osservato determinate regole, che vanno anche a suo vantaggio, non solo a vantaggio degli altri, ma anche propri, adesso interrompe la propria attività lavorativa. Quindi osservare un minimo di regole in questa fase, soprattutto, ripeto, per chi proviene da paesi dove ci sono dei focolai, diventa fondamentale. Ecco, proprio da questa ragione qua. Adesso abbiamo da Dhaka, dall'aeroporto di Dhaka, dove non vengono, abbiamo capito, fatti i controlli. Arrivano tantissime persone dal Bangladesh, richiamate per lavoro, per cui non è che lo fanno per attività turistica o quant'altro, forse anche, se è ammesso, arrivano a Fiumicino, adesso non so quali sono gli altri scali previsti, e a Fiumicino, per fortuna, avevano adottato un'ordinanza immediatamente esecutiva, hanno fatto questi controlli, questi tamponi, e su 200 passeggeri ne hanno trovati, penso una ventina, ma adesso sembra anche di più, che comunque erano portatori del Covid, alcuni dei quali anche febbricitanti, la cosa è emergenziale. Cinque, se non erro, sono arrivati addirittura a Iesor, o erano diretti a Iesor, non lo so, comunque sarebbero entrati nella nostra regione a lavorare. I loro contesti sociali sono articolati. Questo secondo me mette un alert importantissimo su questi voli internazionali da certe destinazioni. E' proprio questo. E' proprio questo il fatto. Cosa ne sappiamo noi se l'Hub di Dubai effettua controlli, oppure no, o altri scali significativi? E' proprio questo il fatto, proprio perché noi non sappiamo se gli altri facciano, adottino determinate procedure, protocolli, precauzioni, allora dobbiamo tutelarci noi. Come lo facciamo? Un minimo di isolamento fiduciario, un minimo di tampone, appunto nel caso in cui la persona lavori, mi sembra insomma proprio di quel buon senso anche che permette poi di evitare che possano sorgere ad esempio di focolai in località turistiche adesso. Sarebbe un disastro. Sarebbe deleterio, vuol dire mettere a ginocchio completamente la nostra economia. Io sto pensando a tutti i nostri tratti costieri, sto pensando anche al lago di Garda. Se incominciamo ad avere focolai, basta, è finita. No, ma è già stata questa notizia qui, appunto io parlavo con operatori del settore turistico che hanno a che fare col nord Europa, con la Germania e la Francia, hanno detto questa cosa qui. I turisti hanno detto siete proprio sfortunati, niente a vedere, però non me la sento. Rimandiamo al prossimo stagione, al prossimo anno. Disdette vuol dire soldi che non entrano. Allora, mi verrebbe da dire, proprio perché già a Monte c'è una preoccupazione. Se noi facciamo vedere che siamo uno stato serio, che siamo una regione seria, per cui prendiamo tutte le precauzioni e i provvedimenti, magari quello che non sapeva se venire o meno, magari può essere più propenso a venire. Però dobbiamo dare l'immagine di essere comunque un paese serio, che adotta determinate procedure e le fa rispettare. Ecco, benissimo. Allora, detto questo, noi andiamo rapidamente in pubblicità. Continuiamo a parlare di questi temi e anche di altri, naturalmente, e quindi restate con noi.